Noi appunto abbiamo realizzato partecipazioni all'interno del progetto pilota promosso dal Formez e dal Departimento della Funzione Pubblica per l'amministrazione aperta. Praticamente la regione Emilia Romagna aveva già scelto di usare Decidim in un processo partecipativo precedente e dopo è entrata in questo progetto per cui fino all'autunno scorso eravamo proprio ospitati su dei server del Formez. Partivamo da una versione 0.21, siamo passati alla 0.22 e la nostra installazione è stata fatta su piccole personalizzazioni di quella che è partecipia, quella di cui si parlava prima e che a sua volta è basata su Decidim. Quindi ha ereditato le scelte che sono state fatte da partecipi a soprattutto per quello che riguarda la privacy, per cui per esempio gli utenti non hanno la foto, non possono esporre nessun tipo di dati personali, eccetera. che invece questa cosa su Comuni TPA, il sito su cui abbiamo la nostra comunità, è stata invece ripristinata perché è stata fatta un'installazione a parte. Quindi noi siamo andati online a febbraio 2022 partendo con la nostra sperimentazione, abbiamo provato diversi processi, alcuni che esistevano già in regione, che abbiamo rispostato su partecipazioni, altri sono nati nuovi, tra cui trasformazioni che è stato in collaborazione col Formez e il processo integrato Agenda 2030 anche in collaborazione col Formez. Per cui sono venute fuori e altri invece sulle consultazioni europee, completamente autonomi con l'Assemblea, collaborazione giunta e Assemblea. Quindi abbiamo visto diversi aspetti tecnici anche di più basso livello rispetto a quello che si diceva poco fa e alcuni appunto li condividiamo, tipo appunto il fatto di avere problemi a seconda della versione in cui si è e di avere più o meno dei limiti in base a questo, perché Decidim ha dato più spazio allo sviluppo di certi componenti rispetto ad altri in base alle esigenze presentate dai committenti iniziali. E mi si sente perché io parlo sempre molto piano e a volte non mi sento. E quindi ci siamo un po' trovati quindi con una versione all'inizio della 0.21 un po' vecchiotta e comunque siamo andati avanti poco. Anche noi c'era il problema anche di avere i programmatori, ci siamo sempre appoggiati al programmatore del Formez e poi adesso dobbiamo trovare il nostro consulente perché siamo diventati autonomi per cui gli aggiornamenti di versione vanno a rilento. Comunque uno dei primi impatti che ci siamo visti davanti è quello di agganciare una popolazione abituata a un certo tipo di linguaggio sul web online e le rigidità un po' di questa piattaforma per cui abbiamo cercato di usare dove eravamo liberi di muoverci linguaggio e video per l'aggancio e invece dove è più... dove lei rimane rigida però ci sembrava comunque sensato utilizzare questa parte per esempio di metadati in un processo per appunto definire i metadati in maniera puntuale. Questo è stato un primo impatto tra il tecnico e quello che le persone vorrebbero fare. L'altra cosa che in fase di progettazione io ho visto è che Desidimi invece dà delle opportunità che riguardano il fatto di seguire il processo in base alle fasi che vengono disegnate per cui puoi già prepararti da prima abilitazioni e disabilitazioni e quindi sfruttare le sue opportunità in maniera più snella una volta che le hai progettate bene e però ho fatto molta fatica a trasmettere questa cosa e quindi le fasi vengono magari pensate e progettate in maniera più ampia per cui dentro una fase succedono molte cose e questo non si è rivelato appunto poi scomodo nella gestione degli strumenti Desidimi perché dovevamo andare a abilitare o disabilitare questi flag a mano tipo alla sera quando nessuno ci guardava e tra l'altro col fatto che se la preparavi prima insomma ti eri fatto le prove così ti arrivi visto che cosa dovevi cliccare o deselezionare invece fatto così un po' in fretta dopo magari potevi sbagliare e te ne accorcevi sul momento quindi questa cosa della progettazione del processo che se la metti su piattaforma dovrebbe magari sgranare le fasi di più che può anche sembrare un po' eccessivo ma che è molto utile invece dal punto di vista di sfruttare le potenzialità della piattaforma alcuni strumenti tipo appunto come le proposte sono stati sviluppatissimi hanno mille opportunità di personalizzarli, di configurarli e anche questo però non è facile da trasmettere ai progettisti di processo quindi alla fine si usano le cose un po' più basic e si tralasciano quelle un po' più particolari poi non che siano più avanzate o meno avanzate perché poi è anche difficile trasmetterle alle persone infatti abbiamo fatto tantissimo lavoro anche per guidare gli utenti a utilizzare gli strumenti per esempio sempre sulle proposte Decidin mette a disposizione un sacco di punti in cui si possono dare istruzione agli utenti questo abbiamo cercato molto di sfruttarlo oltre a fare tutorial e FAQ quindi sulle proposte ci sono un sacco di possibilità date da Decidin invece su altri strumenti non è così per esempio sul testo partecipativo queste sono molto meno il testo partecipativo l'abbiamo utilizzato in due modi con un processo che si chiama Che costa sarà l'abbiamo utilizzato in cui le persone potevano inserire commenti e invece su trasformazioni abbiamo consentito di proporre modifiche al testo vero e proprio entrambe le esperienze sono state interessanti ma io ho visto che hanno partecipato di più nella modalità dei commenti perché probabilmente per gli utenti finali si sentivano più liberi di scrivere e di esprimere il loro pensiero piuttosto che andare a modificare un testo che veniva proposto anche se per me invece quando io avevo visto anche quello di Milano a me sembrava una bella cosa andare proprio a modificare la parola fare delle proposte di merito puntuale mi sembrava più semplice farle sul testo piuttosto che sul commento l'altra cosa che non è semplice nella versione che abbiamo usato noi che è sempre con l'esperienza di Pares ho anche potuto affrontare più semplicemente è stato il caricamento di questo testo partecipativo che alla fine potrebbe essere annidato in paragrafi ma risulta difficile da caricare difficile da leggere per cui alla fine è meglio caricare dei semplici titoli e poi andarli a popolare direttamente in piattaforma e utilizzare le opportunità poi dell'editor testi puntati e formattazione del testo piuttosto che stare a fare tanti annidamenti una cosa che abbiamo fatto noi poi è stata dividerlo in più testi partecipati che venivano guidati da una pagina di menu che ti indicava quali erano l'abbiamo fatto in tutti e due i testi partecipativi che abbiamo provato perché erano abbastanza complessi e quindi un'unica pagina di testo partecipativo avrebbe avuto un aspetto assolutamente non user friendly anche l'analisi dei contributi poi si estrae in Excel quindi non è semplicissima in particolare quando si decide di utilizzare il contributo direttamente sul testo bisogna andare poi a vedere sul file Excel quello che era un testo iniziale dove c'è l'esame and false e dove invece c'è un testo proposto e poi andarlo ad accettare quindi insomma il testo partecipativo è una grande opportunità secondo me è abbastanza complesso da gestire è molto importante spiegare agli utenti come usarlo ma anche a chi poi gestisce il processo partecipativo abbiamo provato anche il bilancio partecipativo e anche qui prendendo ispirazione da chi l'aveva gestito prima di me in altre piattaforme abbiamo cercato di aiutare molto gli utenti alla modalità di utilizzo uno dei grossi problemi è il fatto che le persone debbano confermare il voto alla fine quindi dopo aver votato gli singoli progetti devono cliccare questo tastino vota o come lo si vuole chiamare per confermare il voto e non c'è niente che dia un'alerta all'utente per dirgli se l'ha fatto oppure no quindi anche con Giulia ci eravamo confrontati perché loro l'hanno provato prima di noi c'è questo problema che uno vede che ci sono persone che non l'hanno confermato ma non sa chi sono non può dirglielo e le persone non si rendono conto di non averlo fatto quindi anche qui è molto molto importante la formazione alle persone per cui la partecipazione non è poi così semplice ecco qui si vede votazione pendente che vuol proprio dire che alcune persone non hanno finito di confermare il loro voto anche se anche il bilancio partecipativo ha delle grosse potenzialità proprio perché consente di andare a analizzare i progetti presentati uno per uno e poi andarli a votare avendo presente anche che budget c'è a disposizione lo speed lo speed noi ce l'abbiamo obbligatorio insieme a carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi integrato con Federa e l'integrazione in sé per sé a me non è sembrata difficile non l'ho fatta io l'ha fatto il programmatore però le problematiche che vengono fuori sono quelle tipiche di un'integrazione tra due mondi che si devono parlare che sono predisposti per parlarsi quello che viene difficile è una modalità di decidim di gestire gli utenti quando vengono invitati a partecipare per cui lui nel momento in cui io lo invito con una certa mail lui crea già un utente anche se non è ancora attivo e se la persona con lo speed ha associato un'altra mail diversa vengono creati due utenti e quindi l'indito non va a buon fine bisogna poi intervenire con un programmatore per risolvere questa cosa quindi questo problema qui per chi integra lo speed penso che sia stato sia capitato anche agli altri perché io penso che sia proprio una almeno nella versione che abbiamo noi una modalità di lavoro che lui ha che con l'integrazione con lo speed non è subito venuta fuori all'inizio e quindi ha creato questi momenti di blocco l'altro punto che abbiamo in cantiere è lo speed per i minorenni anche questo non dovrebbe essere complessissimo almeno per noi che abbiamo messo solo il primo livello di sicurezza per lo speed però lo dobbiamo ancora integrare sembra che sia un intervento su un file di metadati e quindi solo appunto un'integrazione tra i due mondi però ve lo saprò dire è sempre molto importante appunto nei limiti che abbiamo affrontato sarebbe importante non restare indietro con le versioni perché comunque molte cose sono state risolte e per esempio il fatto di utilizzare le immagini vengono utilizzate come una gallery molto semplice e poco accattivante rispetto ad altre a cui siamo abituati su altri portali e quindi noi abbiamo utilizzato molto i video per inframmezzare i testi per leggerire i testi però insomma l'utilizzo delle immagini in maniera analoga c'è solo dalla 026 in poi che è molto in là e non so noi spero ci arriveremo l'altra cosa il caricamento dei file che noi abbiamo ancora il limite dei 10 MB ogni file quindi l'abbiamo dovuto risolvere dividendo i file più grandi in file più piccoli che è stata poi anche una buona opportunità perché alla fine insomma chi deve leggerli e deve scaricarli magari si trova comunque meglio però ha creato qualche momento di di defaglianza i meeting che ancora non prendevano nelle versioni che abbiamo noi non prendono il la gestione dei meeting online quindi ce la siamo un po' dovute inventare scrivendo nei campi che servono a descrivere il meeting il fatto che fosse online che era prevista l'iscrizione in un certo modo e poi le mappe che nella versione che abbiamo noi ci sono le mappe abilitate per tutti e non si può scegliere poi non si può nemmeno far caricare meeting agli altri utenti che invece nelle versioni successive è stato fatto l'altro punto sono i questionari che fino alla 025 hanno moltissimi limiti anche non ci sono le domande condizionali così ma hanno anche dei bachi e quindi poi dopo invece dalla 025 visto che l'hanno molto migliorato anche le segnalazioni di errore sono sempre molto generiche andare a capire cosa è successo se non si ha un programmatore che va a controllare a basso livello cosa è successo non si può sapere quindi sì il problema appunto più grosso è sempre che è un software basato su un linguaggio poco usato i programmatori sono pochi e anche da quello che ho capito e anche col fatto che è stato costruito sì in maniera modulare però da tante persone che ci hanno lavorato pare che comunque anche per un programmatore andarci entrarci nella logica non sia semplicissimo per cui anche sviluppare moduli personalizzati che dovrebbe essere appunto abbastanza semplice alla fine non è così facile chiederli e ottenerli insomma noi comunque non ne abbiamo sviluppato nessuno l'altra cosa è che tutti dovrebbero mettere a disposizione il software perché open source anche nelle loro personalizzazioni però anche quello tipo anche solo andare a vedere su github la versione su cui è adesso partecipi a non si trova subito l'informazione alla fine mi sembra di averla trovata mi sembra che partecipi a sia la 025 e noi invece abbiamo ancora una versione un po' più vecchia di partecipi a quindi siamo ancora un po' più indietro però già solo questa informazione su github non è facile da trovare ancora meno puoi andare a vedere il software che più o meno tutti hanno messo a disposizione però non è proprio agevole poi interfacciarsi con quel software per andare a riutilizzarlo